Bravissima nel risolvere i casi. Ci sono troppe cose che non mi tornano. Ma in amore non ha lo stesso intuito. Beh, tempi quelli della scuola. Cosimo, sei sveglio? No. Scusami, ogni volta che il tuo letto è vuoto e ci deve infilar qualcuno. A me il lato del letto vuoto mi dà ansia. È un brunello. Bene, bravi. Si chiama gelosia retrattiva. Retrattiva di cosa? E glielo ho detto, non si è mai fatto niente, però lei non ci ha mai riduto. Vanessa Incontrata è Fosca Innocenti. Prima assoluta da venerdì 11 febbraio su Canale 5.